Il primo serio tentativo di fuga della capolista Gallipoli o un nuovo l'ennesimo rimescolamento delle carte nei quartieri alti del campionato di eccellenza? Molto, se non addirittura tutto, dipenderà dall'esito del match in programma domani pomeriggio a partire dagli ore 14.30 al Città degli Ulivi, tra l'USB Tonto, seconda forza del raggruppamento e la prima della classe, e l'incrocio di cartello della non aggiornata. Si preannunciano 90 minuti che inevitabilmente avranno un'incidenza notevole negli equilibri che riguardano l'alta classifica e che di conseguenza saranno seguiti con particolare interesse anche dalle principali antagoniste. Una su tutte la Vigortrani che ospita al comunale il non irresistibile Galatina, obbligo per i biancazzurri di Massimo Pizzulli ritrovare quel successo che manca da due giornate e riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Gallipoli. Trasferta a Casarano, invece, per un Barletta ancora impellagato nelle zone basse della classifica, salteranno la sfida del Capozza, Rana e Fiorentino. Impegno in Salento, sulla carta più agevole per l'Unione Calcio Biceglie, che incrocerà il proprio percorso con quello dell'Otranto. Per quanto riguarda le altre tre squadre che occupano l'ultimo gradino del podio, invece, il Fasano farà visita al Novoli. Il Molfetta sarà di scena a Vieste, mentre la Vetrana ospiterà un Omnia Bitonto che vuole fortemente dare una spallata alla propria stagione, sino a questo momento parecchio inferiore alle aspettative della scorsa estate. Stesso discorso, più o meno, che vale anche per il Corato. La scintilla potrebbe essere scoccata mercoledì scorso nel recupero con il Novoli. Ora, però, serve la vittoria Bice e Neroverdi di Vito Castelletti, in casa con la Radeo per continuare la risalita in classifica.